Ciao sono il dottor Max. Benvenuto nella sezione della lista completa delle farmacie in Italia. In questa guida ti fornirò un elenco dettagliato di tutte le farmacie presenti sul territorio italiano. Nella lista troverai i nomi delle farmacie, i loro indirizzi completi, i numeri di telefono e codice della farmacia. Al fine di aiutarti a trovare facilmente la farmacia più vicina a te. In questo video nello specifico ti elenco le farmacie che si trovano a Calolzio Corte in provincia di Lecco in Lombardia. Farmacia Fioretta di Laura Maria Fioretta SAS via Fratelli Calvi 6 telefono 0341641114. Codice 2336. Farmacia Rossino via 11 febbraio 7 località. Rossino telefono 0341631616. Codice 2386. Farmacia San Giuseppe Corso Europa 71 F telefono 0341642053. Codice 2389. Farmacia SS. Cosma e Damiano via Santissimi Cosma e Damiano 49 località. Codice 18454. A Calolzio Corte non ci sono altre farmacie da segnalare in questo momento. Sappiamo quanto sia importante avere accesso a farmaci e prodotti sanitari di qualità, soprattutto in momenti di necessità o emergenza. Ti invitiamo a utilizzare questa lista come punto di partenza per individuare la farmacia più comoda per le tue esigenze personali. Ti ricordo che la lista delle farmacie presenti in questa guida è basata sui dati disponibili al momento della sua pubblicazione, pertanto ti consiglio di verificare sempre gli orari di apertura e le eventuali variazioni contattando direttamente la farmacia di tuo interesse. Il dottor Max e il suo team sperano che questa lista sia di grande utilità per te e ti augurano un accesso rapido e sicuro a tutti i servizi farmaceutici di cui hai bisogno. La tua salute è importante e siamo qui per aiutarti a prendertene cura. Questo canale potrà esserti utile in futuro, ti consiglio di iscriverti, grazie ancora per l'attenzione, buon proseguimento.